Questo video riguarda i migliori tre cucine a gas. Il vincitore della qualità nel nostro cucine a gas va all'Aeg HGB 644. Il design dei bruciatori speed burner di questo piano Aeg consentono alla fiamma di indirizzare il calore direttamente sul fondo della padella, scaldandola più velocemente e con maggiore efficienza. Ottimo per cucinare ad alte temperature, con il bruciatore wok potrai liberare la creatività in cucina. Aggiungi un tocco professionale alla tua cucina con questo piano dotato di griglie in ghisa, eleganti e facili da pulire. Grazie all'accensione integrata nella manopola non dovrai utilizzare accendini o altri utensili. Per accendere la fiamma basta utilizzare le semplici manopole. Se la fiamma si spegne accidentalmente o il bruciatore rimane acceso per 4 ore senza interventi sui comandi, l'afflusso del gas viene interrotto per garantire la ottima sicurezza. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Bosch Pop 6B. Il piano in vetro Bosch Pop 6B è elegante e pratico. Composto da materiali di alta qualità, la superficie liscia e curata del piano in vetro offre una finitura perfetta e una grande resistenza. Eleganti e pratici, si puliscono con facilità. Sicurezza tramite termocoppia. Questa sicurezza interrompe automaticamente l'arrivo di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Grazie alla termocoppia istantanea, la fiamma si attiva fin dall'impulso sul controller. In meno di un secondo, il fornello si accende. Potenza 4 bruciatori anteriore sinistro. Bruciatore di grande potenza 3 kilowatt. Posteriore sinistro, bruciatore normale 1,7 kilowatt. Posteriore destro, bruciatore normale 1,7 kilowatt. Anteriore destro, bruciatore economico 1KW. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della Performance Premium nel cucine a gas è il K&H piano cottura. Apprezzato per la sua robustezza e versatilità. È dotato di vetro di sicurezza temperato da 8 mm. Molto solido e griglie in ghisa. Massima attenzione anche alla sicurezza. La parte superiore è progettata con un dispositivo di arresto automatico in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Facile da pulire. Ha una dimensione di 600 x 510 x 100 mm e pesa 15 kg. Mentre il cavo è lungo 1,50 metri, connettore posteriore. Può essere convertito per il funzionamento a gas GPL 30 millibar e gli ugelli sono forniti. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.